Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo al Microsoft Store che ha problemi da avviare se oppure le applicazioni non funzionano qua sopra. Quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro PowerShell, quindi vai a scrivere Windows PowerShell, in descrizione ti ho lasciato così il comando da mettere qui, quindi copi così quel comando, fai CTRL V qua, lo inserisci e fai invio. Avanzamento, distribuzione, uscirà questo comando così e non ci resta che aspettare. Ok, una volta fatta con questa procedura, fai exit. Più di qua, una volta fatta andiamo direttamente sul nostro CMD, esegui come amministratore il CMD e scrivi sfc spazio slash scanno, farà così una verifica ai file. Nessuna violazione di tecretario trovata. Facciamo exit pure qua. Una volta fatta andiamo direttamente sui nostri servizi. Servizi. Scendiamo fino a giù, fino a trovare così il servizio. Servizio, gestione, licenze, Windows. Se non è in esecuzione, fai avvia, tipo di avvio, metti automatico e fai applica e fai ok. Se non dovessi funzionare ancora, possiamo sempre andare su risoluzioni, problemi, postazioni, risoluzioni, problemi, altri strumenti di risoluzione dei problemi. Se in caso uscisse te su altro Windows, quindi Microsoft Store, fai esegui per fare una riparazione. In questo caso fai su risoluzioni, problemi, compatibilità, programmi. Facciamo così una diagnostica al nostro computer. Facciamo così. Quale applicazione si desidera risolvere? Tu vai così a selezionare il tuo Microsoft Store e prosegui. Ed ecco il mio Microsoft Store. Se questo video è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo all'applicazione Microsoft Store che non funziona, iscriviti, lascia un like per altri problemi ancora, commenta sotto il video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.